Buongiorno a tutti e benvenuti da Union Camera Calabria e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino a questo evento dedicato all'aggiornamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Vi porto i miei saluti dal Laboratorio Chimico Camera di Commercio e saluti da Union Camera Calabria. Ricordare che questo evento fa parte di un progetto molto più vasto che è appunto quello dello sportello etichettatura sotto il servizio Europe Enterprise Network di Union Camera Calabria. Quindi rientra in tutta una serie di servizi che voi potete usufruire attraverso il desk di Union Camera Camera Calabria, Europe Enterprise Network, che collabora con noi nella risposta ai quesiti, nella collaborazione per le imprese alimentari e da oggi anche non alimentari, dove appunto le aziende possono chiedere delle informazioni in merito a tutto ciò che ha a che fare con l'etichettatura dei prodotti alimentari. Adesso parliamo di alimentare e più tardi parleremo anche di non alimentare. Sull'alimentare e sulla sicurezza alimentare, quindi sicurezza alimentare vuol dire tutto, tutto ciò che ha a che fare, tutto ciò che voi aziende alimentare vi trovate a dover fare, dover risolvere. Il servizio è molto semplice perché si concretizza attraverso un portale, che è il portale etichettatura e sicurezza prodotti, dove voi come azienda avete a disposizione dei quesiti da poter porre o in forma scritta o attraverso collegamento Skype e poter appunto avere un riscontro, un primo orientamento su diverse tematiche che sono appunto dal vedere un'etichetta e capire un attimo quale possono essere i riferimenti di legge, quale possono essere le criticità, oppure proprio sicurezza alimentare, tutto ciò che ha a che fare con la sicurezza alimentare, immagino autocontrollo, materiale a contatto con gli alimenti, ce ne sono svariate di tematiche, quindi voi potete contare su questo servizio perché Union Camere Calabria lo ha rinnovato e continua a credere in questo servizio attraverso appunto, ripeto, il desk di Europe Enterprise Network. Io non vi faccio perdere più tempo, le slide poi dei relatori verranno messe a disposizione dei partecipanti. Buona giornata e buon lavoro. Passo la parola alla collega, la dottoressa Cristina Luca Giovannini. Buona giornata a tutti. Cristina scusami il tuo audio non si sente. Ecco ora dovrebbe sentirsi, scusate, ricomincio da capo, sono la dottoressa Giovannini del Laboratorio Chimico di Torino. Soltanto un attimo di pazienza mentre condivido le slide. Eccoci. allora intanto prima di partire con la presentazione vera e propria vorrei fare due comunicazioni di servizio. La prima relativa a coloro che si sono iscritti anche alla sessione non alimentare. Vi ricordo che avete ricevuto un secondo link e pertanto per accedere alla seconda sessione alle 10.30 dovrete appunto selezionare questo secondo link che vi è stato inviato. La seconda comunicazione è relativa invece alle aziende che hanno richiesto l'appuntamento personalizzato e alle quali è stato inviato, è stato inviato un'email con l'orario e la richiesta di inviarci il contatto Skype e il numero di telefono. Ecco qualora non abbiate ancora provveduto a rispondere a questi mail vi chiedo cortesemente di farlo quanto prima. Possiamo quindi partire con la parte diciamo più tecnica di questo incontro finalizzato sostanzialmente a fare il punto di quella che è la situazione per l'etichettatura alimentare. Vi anticipo anche che interverrà in questa prima sessione l'avvocato Massimo Altigiani che approfondirà principalmente i temi legati all'origine dell'ingrediente primario, le responsabilità in capo all'OSA e in generale anche le sanzioni per quella che è l'etichettatura. Innanzitutto un breve riepilogo di quelli che sono i riferimenti normativi appunto per l'etichettatura. Sappiamo che a livello comunitario è presente un regolamento, il regolamento diciamo cardine dell'etichettatura il 1169 del 2011, un regolamento trasversale appunto comunitario che va ad essere integrato con delle norme sempre trasversali ma nazionali italiane. Abbiamo il decreto 231 del 2017 che riporta da una parte l'impianto sanzionatorio per quelle che sono le violazioni delle disposizioni del 1169 e del quale vi parlerà l'avvocato Altigiani e allo stesso tempo il medesimo decreto riporta anche degli ulteriori adempimenti di etichettatura che vanno ad integrare quelli definiti dal 1169. Quindi parliamo dell'indicazione dell'otto che in realtà era già stabilita prima di questo decreto da una direttiva comunitaria. Le indicazioni relative ai prodotti non preimballati siano essi venduti anche tramite distributori automatici, siano essi venduti insomma in modo più convenzionale, riporta infine anche quelle che sono le disposizioni per i prodotti non destinati al consumatore, quindi i semilavorati. Sempre a livello nazionale abbiamo un ulteriore decreto il 145 del 2017 che ecco ha subito, ha avuto un iter anomalo rispetto a quello che è tutto il procedimento necessario per poter definire una norma valida ecco, ma di questo anche in questo caso parlerà l'avvocato Altigiani più tardi. Oltre alle norme trasversali ricordiamo che poi in alcuni casi per alcuni prodotti sono presenti anche delle norme cosiddette verticali di settore, quindi sanciscono quelli che sono degli obblighi specifici per alcuni prodotti e che quindi vanno ad integrare quelle che sono le indicazioni in generale di etichettatura. In questo caso vedete che nella slide ho riportato alcuni esempi come quello dell'olio di oliva, delle confetture, delle marmellate, della pasta alimentare, ma chiaramente gli esempi ecco non si possono esaurire qui, ma abbiamo una davvero molte norme di settore che vanno ad integrare le informazioni orizzontali. Parlando di informazioni obbligatorie, in questo caso noi sappiamo che il regolamento 1169 innanzitutto fa un'importante distinzione tra i prodotti preimballati e quelli non preimballati. Dopodiché abbiamo comunque diverse modalità di presentazione, diversi possibili destinatari e di conseguenza a seconda di queste possibilità di chi è il destinatario, ad esempio che il prodotto sia destinato direttamente al consumatore oppure quindi che sia venduto al consumatore oppure che sia destinato adesso ma venduto in una fase precedente oppure addirittura che sia venduto a distanza. Ecco in questi casi le informazioni obbligatorie che devono essere fornite possono essere differenti e possono essere fornite con modalità differenti, ad esempio nel caso del prodotto destinato al consumatore ma venduto in una fase precedente quindi ad esempio a dei grossisti o comunque ad altri operatori del settore, le informazioni obbligatorie possono essere riportate anche solo su un documento commerciale posto che ovviamente questo segua il prodotto e insomma sia consegnato in contemporanea con esso. Oltre alle informazioni obbligatorie vere e proprie è necessario rispettare anche dei requisiti, come dire dei requisiti di base. In primo luogo sicuramente quelli relativi alle pratiche leali di informazione, il regolamento in tal senso è molto chiaro, ci dice che tutte le informazioni relative ai prodotti non possono trarre in inganno il consumatore. Sotto questa induzione in inganno comprende diversi aspetti, ad esempio il fatto che non si possano vantare delle caratteristiche proprie quando in realtà le caratteristiche sono comuni ad una categoria oppure non è possibile indurre in errore in merito alle caratteristiche, alla composizione e all'origine del prodotto, ad esempio. Un altro requisito di base è relativo alla lingua. In questo senso la normativa ci indica chiaramente che le informazioni obbligatorie devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori del paese in cui andiamo a commercializzare il prodotto. Questo vuol dire che ad esempio in Italia le informazioni dovranno essere fornite in italiano, questo perché non è possibile dare per scontato ad esempio che in Italia tutti, tutti i consumatori, siano perfettamente in grado e capiscano facilmente ad esempio l'inglese, per quanto ben conosciuto, per quanto sia considerato una lingua diciamo internazionale, ma non è possibile dare per scontato che tutti lo comprendano facilmente. Infine ci vengono fornite anche delle indicazioni per quelle che sono le, per quella che è la presentazione, le modalità grafiche con le quali dobbiamo riportare le indicazioni. La normativa ci fornisce un'altezza minima dei caratteri, ci indica quali sono le informazioni che devono comparire nel medesimo campo visivo e allo stesso tempo ci fornisce un'indicazione forse scontata, ma che di fatto è opportuna che la normativa ribadisca, che è quella che tutte le informazioni chiaramente devono essere accessibili, comprensibili, non oscurate, non separate, quindi devono essere fruibili per il consumatore. Oltre alle informazioni obbligatorie sappiamo che è consentito riportare delle informazioni aggiuntive, volontarie. Anche in questo caso però ci sono delle regole da rispettare. Anche qui le informazioni facoltative non possono indurre in errore il consumatore e in questo senso c'è un collegamento con quelle che sono le pratiche leali di informazione, quindi valide sia per le informazioni obbligatorie sia per quelle volontarie. Le informazioni facoltative non possono essere né ambigue né confondere il consumatore e allo stesso tempo devono essere, se del caso, chiaramente a seconda delle informazioni basate su dei dati scientifici pertinenti. Anche in questo caso abbiamo delle informazioni, delle indicazioni per quella che è la presentazione di queste informazioni che non possono occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie. Per alcune informazioni facoltative ricordo che poi sono presenti delle specifiche normative, è questo il caso ad esempio dei claims nutrizionali o salutistici, quindi ad esempio il famoso senza zuccheri aggiunti oppure a ridotto contenuto di, o comunque delle indicazioni che relazionano il consumo di un alimento con lo stato di salute. Non soltanto, ad esempio nel caso dell'olio abbiamo la stessa normativa, lo stesso regolamento comunitario sull'olio di oliva che definisce quelle che possono essere le informazioni facoltative che possono essere apposte in etichetta e che chiaramente devono rispettare dei requisiti di utilizzo specifici. Ecco, veniamo adesso brevemente a quali sono stati, diciamo, gli aggiornamenti più recenti, i macro aggiornamenti di questo ultimo periodo. Ma sicuramente il grande protagonista di questo primo semestre del 2020 è stato il regolamento 775 del 2018 relativo all'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario seguito dalla comunicazione, dalle linee guida specifiche per questa normativa. Di questo e della comunicazione relativa alla proroga dei decreti di origine nazionali, comunque vi parlerà l'Avvocato Alpigiani, di conseguenza io procederei, fornendo altri due riferimenti, altre due, diciamo, novità. La prima relativa alle note che sono state pubblicate dal Ministero della Salute sulla rideterminazione della Chef Life. sostanzialmente queste note ci dicono che a seguito della richiesta di alcune associazioni di categoria il Ministero comunica che sì, è possibile effettuare una rideterminazione della Chef Life dei prodotti. Chiaramente questa rideterminazione deve essere fatta prima della scadenza effettiva del prodotto e chiaramente è a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile che quindi valuterà se è il caso o meno di prolungare quella che è la durabilità dei suoi prodotti. È chiaro che questa indicazione dovrà essere riportata in etichetta o eventualmente nel caso in cui non ci fosse un'etichetta sui documenti commerciali ed è chiaro che ci dovrà essere anche una corrispondenza tra questa, chiamiamola, nuova durabilità, questa nuova Chef Life e quelli che sono i documenti relativi al prodotto. Infine, ecco, un aggiornamento o non aggiornamento, diciamo, chiamiamolo un'anticipazione relativo a questa strategia Farm to Fork. A fine maggio la Commissione europea ha pubblicato appunto questo documento nell'ambito del Green Deal, del Patto Verde e in questo documento la Commissione si pone diversi obiettivi tra i quali posso citare la promozione della biodiversità, la sicurezza alimentare, la garanzia che al consumatore vengano fornite sempre delle informazioni sufficienti, adeguate al fine di una sua scelta consapevole dei prodotti. Ecco, interessante, cito questo documento, perché tra le varie azioni che si propone di effettuare nel corso dei prossimi anni la Commissione europea si parla anche di etichettatura, nel senso che rispetto all'obiettivo di garantire al consumatore delle informazioni trasparenti, la Commissione dice che si proporrà nei prossimi anni di innanzitutto valutare un sistema armonizzato per riportare la dichiarazione nutrizionale sul fronte dell'etichetta e qui sicuramente tutti voi avrete sentito parlare del famoso Nutri-Score e della proposta italiana della dichiarazione a batteria. Ecco, la Commissione si propone appunto di trovare un sistema che sia armonizzato all'interno dell'Unione Europea. Un'altra azione che si propone, che si prefigge di svolgere la Commissione è quella di rendere obbligatori all'origine per altri prodotti alimentari. e allo stesso tempo di trovare anche dei sistemi che garantiscano l'accessibilità delle informazioni anche per persone ipovedenti. Un altro tema poi che è trattato in questa strategia è quello relativo allo spreco alimentare. In tal senso è interessante per quelle che sono le informazioni di etichettatura perché la Commissione si propone di valutare in modo più attento, più puntuale, quelle che sono proprio le indicazioni, quindi la data di scadenza, il TMC, che consentono e che forniscono di fatto l'informazione relativa alla durabilità dei prodotti alimentari. Un'occhio, un'occhiata molto rapida a quelli che sono stati i controlli in questi quattro mesi. L'ICQRF ha pubblicato un documento appunto che ha dei numeri, fornisce dei numeri su quelli che sono stati i controlli e le attività svolte da febbraio-maggio del 2020, quindi in concomitanza con il Covid, il picco del Covid. È interessante vedere che sono stati svolti, nonostante tutte le varie problematiche, più di 29.000 controlli tra ispettivi analitici. Di questi un terzo sono stati svolti nel nord Italia, in particolare tra Lombardia e Veneto, e i settori principalmente valutati sono stati il settore vitivinicolo, l'oleario e l'attiero caseario. Un altro numero, un altro dato a mio avviso importante e interessante è quello relativo agli interventi di rimozione per prodotti non conformi che è stato effettuato sul web su principalmente tre piattaforme di e-commerce, per Salibaba, eBay e Amazon. Infine, quali sono state le sanzioni e le violazioni che sono state sanzionate? Ma allora, questo report ci riporta questi numeri, allora circa il 56% sono state le sanzioni effettuate per quello che è il settore vitivinicolo. Un 25% sono le sanzioni relative ai prodotti di qualità regolamentata e ecco il numero che forse in questa occasione ci interessa di più è quello relativo alle sanzioni per le violazioni in tema di etichettatura, quindi le violazioni relative al decreto 231 del 2017 che in questi quattro mesi sono state pari al 10%. Io andrei in chiusura per lasciare maggiore spazio all'Avvocato Alpigiani che ci parlerà in modo appunto approfondito di temi molto discussi, quindi l'origine ingrediente primario e anche il famoso decreto 145 sulla sede di stabilimento di produzione. Vi rubo soltanto qualche altro minuto per parlarvi di quello che è il portale etichettatura e sicurezza dei prodotti. È il nostro nuovo sito che vi consente di accedere al servizio sportello etichettatura. Su questa piattaforma potrete trovare delle informazioni a libero accesso, quelle che vedete nella colonna di sinistra, quindi i riferimenti normativi, le facche, le schede prodotto, mentre per accedere al servizio sportello vero e proprio sarà necessario effettuare una registrazione gratuita e dopodiché selezionare il bottoncino che vedete e inoltre il tuo quesito. In questo caso per le aziende calabresi il servizio è gratuito grazie al contributo camerale di Unione Camere Calabria. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do soltanto l'ultima informazione relativa al fatto che al termine della mia presentazione troverete i link di tutti i riferimenti che ho citato e al quale appunto potrete accedere per un approfondimento ulteriore di quanto discusso. Vi ringrazio e passo la parola all'Avvocato Alpigiani. Bene, buongiorno, grazie innanzitutto alla dottoressa Giovannini Luca per l'introduzione, per aver anticipato alcuni temi e per avermi lasciato un po' il cerino acceso in mano su alcune questioni un po' complicate e devo dire che questi incontri sono sempre piacevoli per interagire con altri operatori a vario titolo della filiera alimentare da chi fa effettivamente produzione, commercializzazione di alimenti anche per chi poi si occupa di consulenza sul tema. E' importante confrontarsi su questi alimenti perché come è emerso, anche appunto da questa introduzione già tecnica che la dottoressa Giovannini Luca ha effettuato ci sono diverse questioni che sono non solo complicate ma che richiedono un'interpretazione e l'interpretazione deve a stavolta poi tradursi in un comportamento che sia il più possibile difendibile sul mercato. Ci sono questioni risolte, ci sono questioni invece ancora aperte. Durante la mia presentazione ci occuperemo in maniera spero il più completa possibile, calibrata sul tempo a disposizione, di questi profili, profili che creano sempre pensiero alle imprese, profili che poi portano tutti a delle ipotesi di responsabilità che assolutamente si vuole evitare quando si opera nell'ambito appunto del mercato che ci interessa. Abbiamo già sentito citare questo decreto legislativo non soltanto in questa sede ma sicuramente negli ultimi due anni e mezzo mi riferisco al decreto legislativo 145 che è uno di quegli argomenti sui quali dico sempre è utile confrontarsi. Perché? Perché noi ci troviamo di fronte ad un decreto legislativo che ha fissato un obbligo, ha fissato un obbligo che è quello appunto di indicare la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento o di diverso sull'etichetta. Leggendo questo decreto chiaramente noi ci sentiamo ovviamente portati a rispettarlo, ma poi andiamo ad approfondire e vediamo che il Tribunale di Roma con un'ordinanza del 2019 ha sancito l'inapplicabilità di questa norma e la non opponibilità ai privati. Questo perché? Perché non è stato rispettato un iter di applicazione che richiedeva una preventiva comunicazione alla Commissione europea visto che si andava ad inserire, faccio brevissima, si andava ad inserire in un dettato normativo di stampo europeo che è appunto il regolamento 1169 il quale impone agli Stati membri che laddove volessero implementare un qualcosa di più specifico devono ovviamente comunicarlo, notificarlo alla Commissione. Ecco l'Italia si è dimenticata di fare questa comunicazione quindi ha emanato questo decreto legislativo che di fatto poi si è manifestato come inapplicabile appunto con un provvedimento del Tribunale di Roma. Bene, che è successo quindi a questo decreto legislativo è ancora valido oppure no? Ecco nel 2018 è stato riproposto questo obbligo con un decreto legge quindi è stato appunto indicato è stato come dire fatto risorgere questo decreto legislativo altrimenti inapplicabile e nel luglio 2019 è stato dato atto che la comunicazione, quella che era prima mancata alla Commissione, è stata effettuata e quindi possiamo adesso considerare questo decreto legislativo finalmente operativo e quindi dobbiamo conformarci alle disposizioni che qui sono contenute. Altro esempio per il quale è sempre importante confrontarsi e analizzare la normativa assolutamente tecnica, assolutamente difficile ritengo che questo sia uno dei settori che ha una normativa più complicata ed in costante evoluzione ecco anche qui non sempre basta leggere quello che ci viene fornito ma bisogna andare ad effettuare un'opera di interpretazione opere di interpretazione che spesso è effettuata dalla stessa dalla stessa Commissione europea ma a volte bisogna vedere che valore ha ed infatti è stato pubblicato una delle varie facche sul regolamento 1169 nel quale si dava un'informazione in base alla quale delle porzioni individuali presentare ai clienti di esercizi come parte integrante del pasto non dovevano essere considerate come unità di vendita non considerare queste monodosi talmente pensiamo all'olio che viene dato dentro la bustina monomuso al ristorante eccetera non considerare questi prodotti come unità di vendita vuol dire non applicare a queste tutto il regime di informazioni obbligatorie previste dal 1169 quindi non mettere in etichetta tutte le informazioni le informazioni obbligatorie ebbene con una sentenza del 2015 dal nome impronunciabile è stato appunto indicato che le domande risposte che erano state fornite non avevano alcun valore vincolante e in caso di controversia l'interpretazione spetta alla corte di giustizia della comunità europea quindi anche qui leggiamo le faccole con attenzione ma dobbiamo essere ovviamente attenti a fare un'interpretazione un'interpretazione assai critica arriviamo ad un ulteriore argomento ad un ulteriore argomento particolare che è quello del regolamento di esecuzione 775 che ci ha sicuramente interessato in questo periodo di lockdown in quanto è entrato in vigore il primo aprile del 2020 è un regolamento di per sé il regolamento di esecuzione di per sé abbastanza complicato abbastanza complicato in quanto qui si indica che l'indicazione del paese di origine un logo di provenienza di un ingrediente primario ove non sia quello che risulta risulta sull'etichetta deve essere indicato indicato in maniera chiara ci torneremo volevo soltanto qui appunto soffermarmi nuovamente su l'importanza di analizzare con attenzione con attenzione le norme perché abbiamo un regolamento abbiamo delle linee guida che chiariscono quello che il regolamento vuol dire abbiamo poi una serie di decreti da ultimo il decreto MIPAF del 30 marzo 2020 che nonostante tutto quello che è stato effettuato a livello comunitario proroga fino al 31 dicembre 2020 l'efficacia di tre decreti d'origine tipicamente soprattutto i tipicamente italiani imponendo a lavoratori del settore alimentare di effettuare diciamo delle diadempia degli obblighi informativi informativi ulteriori il decreto MIPAF che cosa del 30 marzo 2020 dice che quei decreti di origine che erano già presenti saranno ancora validi altrimenti la loro efficacia sarebbe venuta meno dal primo aprile 2020 cioè data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione 775 noto ulteriore diciamo che questo regolamento questo decreto MIPAF in realtà non se ne rinviene traccia nella gazzetta ufficiale c'è chi sostiene che ci sono dubbi sulla sua applicabilità dal mio punto di vista ritengo che il decreto sia pienamente applicabile perché insomma se ne è data una conoscenza una conoscenza diffusa perché poi è stato anche ripreso da ulteriori regolamenti e decreti regionali di applicazioni quindi a mio avviso nonostante ci sia ancora ancora non ci sia ancora la pubblicazione della gazzetta ufficiale lo considererei comunque comunque ancora valido chiarito un po' il perché dobbiamo dobbiamo spesso soffermarci a parlare di normativa di normativa alimentare e quanto è importante essere sempre aggiornati e partecipare appunto ad incontri di confronto come questi voglio passare alla normativa di riferimento che come è stato anticipato è principalmente rappresentata dal regolamento 1169 il regolamento 1169 è un po' la bibbia delle etichette la chiamo in quanto lì sono principalmente contenute tutte le informazioni che poi dovranno essere rappresentate nelle etichette dei prodotti dei prodotti alimentari quindi una perfetta completa assoluta conoscenza del regolamento 1169 è un qualcosa che chiunque si occupa di etichettatura ma diciamo in generale di chi collabora con gli operatori del settore alimentare deve deve assolutamente assolutamente avere e se non abbiamo una conoscenza una conoscenza così puntuale del regolamento 1169 corriamo il rischio di vedere applicato il successivo decreto legislativo 231 che prevede diciamo la normativa per normativa sanzionatoria in caso di mancata o non corretta applicazione delle norme fissate al regolamento 1169 a chi si applica a chi interessa ho già anticipato interessa tutti gli operatori del settore alimentare in qualsiasi fase della catena alimentare questi svolgono loro attività quindi parliamo dalla produzione fino a tutti i passaggi intermedi di distribuzione fino alla fino alla ad arrivare a chi da ultimo ambito retail mette poi a disposizione dei consumatori dei consumatori questo prodotto e che poi molto spesso rappresenta l'interfaccia ultima con cui il consumatore si deve relazionare è proprio per garantire per garantire sia il consumatore sia tutti tutte le osa che si sono interfacciate interfacciate con questo prodotto lungo la la filiera alimentare il regolamento prevede appunto una serie di hobby che devono essere rispettati anche anche nelle fasi di commercializzazione che antecedono la vendita alla vendita al dettaglio chi è l'osa chi è l'osa spesso mi viene fatta questa 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 domanda e specialmente in quelle ipotesi dove c'è una produzione condivisa tra vari operatori del settore alimentare a vario titolo ci si interroga su chi è effettivamente effettivamente l'osa il regolamento su questo è abbastanza chiaro ci indica che osa è la persona fisica o giuridica che è responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni e registrazione alimentare bene ma come lo individuiamo individuiamo un osa diciamo la scelta di come viene completata un'etichetta su questo è molto molto importante in quanto l'osa è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto chiaramente se abbiamo una sede all'interno dell'Unione Europea cioè valido altrimenti visto che noi parliamo di un regolamento europeo sarà considerato operatore del settore alimentare l'importatore di un prodotto extracomunitario che è a sede all'interno del territorio dell'Unione attenzione sottolineo questo passaggio relativo al nome o la ragione sociale in quanto anche qui noi ci portiamo dietro un po' un retaggio di una normativa precedente che poi è stata in grossa parte e poi completamente superata dal regolamento 1169 per quanto riguarda il il marchio allora deve essere considerato operatore del settore alimentare non soltanto quell'impresa che indica il proprio nome o la ragione sociale in etichetta ma anche quell'impresa che appone appone un suo marchio registrato quindi attenzione laddove noi avessimo un marchio registrato e non andassimo ad appore un'etichetta ecco quello potrebbe qualificarci come operatore del settore alimentare e conseguentemente considerare farci considerare come quei soggetti responsabili delle informazioni che vengono che vengono date ai consumatori che deve fare l'OSA l'OSA deve essere deve avere un comportamento un comportamento io dico sempre un comportamento leale dobbiamo dobbiamo incardinare tutta l'attività informativa che noi facciamo nei in favore dei consumatori da ultimo anche dei nostri colleghi come partners della filiera alimentare a un principio sicuramente di lealtà e di correttezza cioè noi dobbiamo fare in modo che quelle informazioni che vengono che vengono rese e nell'etichetta alla fine ma anche nei documenti commerciali che quindi passano di operatore in operatore fino ad arrivare al consumatore siano corrette siano leali siano ispirate appunto ad un principio di lealtà che significa che l'OSA anche dove non dovesse intervenire nella predisposizione dell'etichetta e quindi nella predisposizione delle informazioni di avere un comportamento responsabile e cioè valutare se c'è una correttezza di fondo se c'è una correttezza delle informazioni deve interrogarsi se quelle informazioni che vengono date siano corrette oppure no come? richiedendo chiaramente le informazioni che servono a chi l'ha preceduto nella filiera ma anche e soprattutto questo è un obbligo che ci dà il regolamento 1169 ma anche non fornire quelle quei prodotti per i quali anche il dubbio il dubbio che le informazioni riportate non siano non siano non siano corrette è un impegno me ne rendo conto è un comportamento che non è non è scevro da profili di dubbia imputazione di responsabilità nel caso in cui dovesse poi emergere una difformità di questo di questo prodotto ma è un obbligo che ci impone che ci impone il il regolamento quindi non possiamo dire beh ma io non ho non ho toccato nulla di questo di questo di questo prodotto e quindi non sono intervenuto nelle informazioni ok questo può mandarci esenti da responsabilità ma dobbiamo comunque verificare se ad esempio ci sono delle difformità così palesi che io in quanto professionista di questo settore non potevo non accorgermene tutto questo perché perché si vuole tutelare l'utente più debole di questa di questa catena che è il consumatore quindi fare in modo che anche nei passaggi che portano il prodotto ad essere fornito al consumatore ci sia una 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 attività il più possibile responsabile e infatti i destinatari diciamo di queste informazioni come ho detto sono sia i consumatori sia gli altooperatori sia le collettività dove per collettività riassumiamo fondamentalmente i ristoranti eccetera il tutto come anticipavo deve deve essere fondato su questi tre principi cardine cardine che che muovono che muovono un po' il funzionamento del regolamento 169 e cioè appunto deve esserci una corretta e completa informazione che viene che viene data attenzione è vero che 1169 rappresenta come ho detto la bibbia per quanto riguarda le informazioni che devono essere date in etichetta ma non è soltanto quella non è soltanto il regolamento 1169 che impone che impone che individua quali sono le informazioni da rendere in etichetta in quanto c'è tutta una serie di normativa verticale quindi normativa inerente a specifici prodotti a specifiche categorie di prodotti che va ad integrare quanto il regolamento 1169 impone in termini più generali deve poi essere sempre rispettato il principio della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo quindi fare in modo che tutta l'attività che le osa portano pongono in essere permetta in qualsiasi momento di rintracciare dove si trova quest'alimento come è stato realizzato e come fare per andarlo eventualmente a ritirare o a richiamare dal mercato ovviamente a tutela del principio fondamentale che è quello della salute che ovviamente si pone a corollario fondamentale di tutto quello che ci stiamo dicendo scendendo un po' più nel concreto l'osa quindi deve assicurare che le informazioni siano presenti siano corrette in etichetta non deve appunto introdurre informazioni che possano in qualche modo forse in maniera non leale nei confronti dei consumatori andando magari a ledere quello che è appunto il principio della tutela di questi non fornirà alimenti cui non conosce o di cui presume la non conformità ricordiamoci quello che abbiamo appena detto cioè deve avere un comportamento attivo anche per quei prodotti in relazione ai quali io sono un semplice distributore magari per i quali io non sono intervenuto né nel processo di produzione né altrettanto nel processo di confezionamento di etichettatura e chiaramente poi devo rispettare tutte le informazioni gli obblighi che derivano dalla legislazione alimentare quali sono queste informazioni obbligatorie non voglio sediarvi nello scorrere tutte quante le informazioni e andare ad analizzare passo passo il contenuto del regolamento del 169 ma vi invito ad andare a reggere l'articolo 9 di questo regolamento dove appunto si indicano si indicano quale cosa compone appunto questo pacchetto di informazioni obbligatorie che bisogna dare ai consumatori e successivi articoli vanno a chiarire molti molti aspetti su appunto la tipologia di denominazione sull'elenco di ingredienti quando deve quando può essere immesso e gli elementi che chiaramente riguardano l'indicazione degli allergeni e attenzione specialmente se abbiamo prodotti che contengono allergeni in quanto vedremo poi come i profili sanzionatori siano assolutamente più più gravi per quelle violazioni che riguardano la mancata o la non corretta indicazione della presenza di allergeni appunto perché come dicevo la tutela della salute è tra gli elementi primari della tutela che viene che viene offerta e di riscorrendo insomma la quantità la quantità netta termini di scadenza e così via diciamo questo è il pacchetto di informazioni obbligatorie che applicabili chiaramente devono essere indicate indicate nell'etichetta il regolamento poi oltre a fissare degli delle informazioni obbligatorie diciamo le generiche cioè applicabili a tutti a tutti i prodotti prevede poi prevede poi delle ipotesi più specifiche per quanto riguarda per quanto riguarda l'etichettatura di alcuni di alcuni di alcuni alimenti o di alcuni alimenti che contengono certi ingredienti per i quali si richiede appunto un'indicazione un'indicazione complementare come appunto queste che ho che ho qui che ho indicato anche queste slide saranno poi poi date quindi avrete modo di vederle con calma ho parlato di informazioni obbligatorie c'è anche e su questo spesso spesso ci si interroga su come gestire invece le informazioni volontarie cioè spesso mi viene chiesto avvocato io vorrei indicare in etichetta alcune alcune informazioni non sono obbligato a farlo quindi a questo punto mi sento libero di farlo un po' come credo no assolutamente no perché e su questo regolamento è molto chiaro indica appunto che nel caso in cui vengono fornite delle informazioni su base volontaria e in cui vengono fornite delle informazioni che rientrano tra quelle indicate dall'articolo 9 cioè che sarebbero o applicabili delle informazioni obbligatorie ecco laddove queste informazioni vengono inserire su base volontaria allora allora bisogna bisogna indicarle come se queste fossero obbligatorie quindi tutti quegli obblighi che la dottoressa Gianni Luca ha prima indicato su su la modalità l'indicazione in etichetta su l'altezza del carattere sulle evidenziazioni sul posizionamento ecco anche per le informazioni obbligatorie laddove riguardano delle informazioni che rientrerebbero tra quelle tra quelle obbligatorie per altri prodotti ecco anche qui devono essere indicate con la stessa con la stessa modalità in ogni caso le informazioni volontarie devono essere ispirate al medesimo principio di lealtà e correttezza nel consegnare l'informazione al consumatore cioè non posso perché sono volontari utilizzare le informazioni che sto dando per indurre l'errore in consumatore o presentandoli in maniera ambigua o confusa o questo purtroppo spesso è fatto per attribuire caratteristiche o qualità che non sono possedute o per magari dire che quell'alimento contiene contiene uno specifico ingrediente che in realtà è presente in maniera naturale quindi le informazioni volontarie non sono una via d'uscita per meglio presentare il prodotto il prodotto deve essere presentato per quel che è facciamo un passo indietro per quanto riguarda la presentazione ma avanti per quanto riguarda le informazioni che ci stiamo che ci stiamo scambiando sul regolamento di esecuzione 775 e ho prima accennato che è questo tra tra gli argomenti tre argomenti più delicati e è tra gli argomenti che più hanno hanno ispirato devo dire la creatività interpretativa di questi ultimi di questi ultimi mesi chiaremo innanzitutto di cosa si occupa questo regolamento 775 sul paese d'origine un luogo di provenienza dell'ingrediente dell'ingrediente primario chiarendo che cosa uno cos'è l'ingrediente primario l'ingrediente primario ovviamente è lo stesso regolamento così come sono le stesse quali inibili che sono uscite è individuabile secondo due modalità una quantitativa una qualitativa cioè esiste un ingrediente primario laddove un ingrediente ha più del 50% è presente nel prodotto finale per più del 50% del suo contenuto c'è un ingrediente primario dal punto di vista qualitativo laddove il consumatore si aspetta in quell'elemento e ci sia appunto un un determinato ingrediente mentre per gli aspetti quantitativi non c'è tanto da interrogarci cioè se un ingrediente ha presente misura superiore al 50% quello è ovviamente un ingrediente primario sull'aspetto qualitativo mi riporto un esempio che è sicuramente chiaro che è quello dell'aranciata cioè l'aranciata presenta credo un 90% d'acqua il 10% di arancia ma l'informazione che il consumatore vuole avere non è tanto sull'acqua ma sulla tipologia di arancia ecco su prodotti del genere dove il consumatore appunto si aspetta una determinata informazione è lì che può andarsi ad individuare in maniera qualitativa la presenza dell'ingrediente primario ciò chiarito laddove ci trovassimo in presenza di un prodotto che contiene al suo interno un ingrediente che è qualificabile primario secondo gli elementi che ci siamo che ci siamo appena appena detti ecco siamo nell'ambito di di possibile applicazione del regolamento di esecuzione 775 perché cioè se la presentazione di questo di questo prodotto mi dico strizza l'occhio cioè indirizza indirizza il consumatore ha una certa origine perché magari è presentato con un bel tricolore disegnato in etichetta ecco laddove l'ingrediente primario non è di origine uguale a quella che viene mostrata in etichetta ecco bisognerà bisognerà evidenziare al consumatore che c'è un'origine diversa di quella di quell'ingrediente quindi tornando al nostro esempio dell'aranciata che abbiamo fatto se in etichetta c'è un bel tricolore che fa pensare che quel prodotto è di origine italiana ecco laddove l'arancia vuol dire spagnola bisognerebbe appunto indicarlo non bisognerebbe fare un'ulteriore indicazione laddove l'ingrediente primario avesse la medesima origine di quella che appare in etichetta regolamento 775 è questo cioè fare in modo che l'outfit che la presentazione di quel prodotto corrisponda all'origine all'origine dell'ingrediente dell'ingrediente primario da qui poi ci siamo ci siamo messi ad interpretarlo su quando effettivamente un prodotto un prodotto possa essere possa essere indirizzato verso una determinata origine oppure no e devo dire che le linee guida che sono che sono state pubblicate e che saranno immagino contenute anche nei link che vi verranno inviati insieme alla presentazione precedente fa molti esempi molti esempi che sono assolutamente di facilissima comprensione dove si parla ad esempio la posizione di una bandiera piuttosto che di un monumento tipico può essere considerato come un'indicazione di origine del prodotto si risponde in maniera puntuale si in alcuni casi in altri invece bisogna andare a verificare vi invito a leggere queste linee guida che ritengo essere del tutto chiare cosa è successo in Italia in Italia come ho anticipato c'erano una serie di decreti di origine che quindi andavano a richiedere delle indicazioni un po' più specifiche per quanto riguarda determinati determinati l'origine di determinati ingredienti in alcuni prodotti che appunto con il regolamento 775 dovevano venire meno in realtà è stata garantita un'ultraattività almeno di tre di questi e quindi per quanto riguarda i prodotti che contengono l'etichetta del grano d'urcia per le paste di semolo e quant'altro è appunto presente un obbligo ulteriore che è quello di indicare il paese di coltivazione del grano e il paese di molitura quindi in aggiunta rispetto a quanto richiede il regolamento 775 per questi prodotti bisogna dare un'indicazione un'indicazione ulteriore così come per quanto riguarda l'etichetta del riso bisognerà appunto indicare il paese di coltivazione di lavorazione di confezionamento come vedete questo sono è un'informazione assolutamente più incisiva rispetto a quello del regolamento 775 quindi noi che dobbiamo ovviamente sottostare noi intendo noi sottoposti alla registrazione italiana che dobbiamo sottostare a questi obblighi dobbiamo fare attenzione appunto nel rispettarli qui dicevo grano duro riso l'ultimo il pomodoro che anche qui bisognerà indicare il paese di coltivazione e quello di trasformazione e dovrebbero essere addirittura d'arrivo anche un ulteriore decreto quanto meno sui prodotti ero caseari ma al momento è stato soltanto anticipato non ce n'è ancora notizia ma immagino che nei prossimi mesi verrà appunto riproposto anche il decreto e vado a concludere rapidamente visto che il tempo di disposizione si va si va sorendo per quanto riguarda la violazione degli obblighi informativi allora vi ho anticipato che il decreto legislativo 231 del 2017 è il decreto che contiene la disciplina sanzionatoria per l'evoluzione del regolamento 169 questo non esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità in quanto sicuramente specialmente nella fase retail dei consumatori è applicabile il codice dei consumatori è applicabile sicuramente nella legge 689 dell'81 che riguarda tutte le sanzioni amministrative così come rimane applicabile il codice penale nell'ipotesi di frode di frode al commercio poi ho riportato una serie di tabelle che adesso scorro soltanto velocemente nei quali accanto alla previsione del regolamento 1169 c'è la corrispondente sanzione prevista dal decreto legislativo 231 non mi soffermo vi invito poi magari a leggerle con calma per capire quanto effettivamente il rispetto di queste informazioni possa essere possa avere come conseguenza quella di avere delle sanzioni assolutamente assolutamente gravi ricordo sempre mentre scorro queste informazioni che le sanzioni vengono combinate per 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 accertamento quindi laddove noi avessimo prodotto una serie ampia di prodotti e di messo sul mercato una pluralità una pluralità di prodotti con un'etichettatura non conforme saremmo potenzialmente esposti a n sanzioni tante quante saranno gli accertamenti che il CQRF cioè l'autorità competente per effettuare i controlli e per principalmente competente per effettuare i controlli per combinare le sanzioni effettuerà effettuare i nostri prodotti quindi attenzione è importante agire in maniera assolutamente tempestiva nel caso in cui ci dovessimo accorgere o perché abbiamo effettuato noi un controllo o perché abbiamo subito un controllo che poi ha portato all'emanazione di una sanzione o quantomeno di un verbale di fida interroghiamoci se dobbiamo intervenire sui nostri prodotti per andare a evitare che ulteriori sanzioni possano essere possono essere combinate diciamo che per quanto riguarda la procedura c'è un iniziale fase di di contraddittorio per quanto per quanto riguarda gli accertamenti per fare in modo che quanto meno le sanzioni di lieventità possano rientrare in una sanabilità immediata altrimenti si arriva a subire un'ordinazione per il pagamento quantomeno di una sanzione amministrativa ma anche molto spesso per il rigiro dei prodotti e quant'altro ci sono poi ipotesi nelle quali le sanzioni possono essere ridotte ma insomma qui vi invito semplicemente ad andarle a vedere ricordo che come ho detto il codice del consumo rimane applicabile per quanto riguarda in particolare le pratiche commerciali commerciali scorrette quindi anche in questo caso seppur vero che l'articolo 7 del regolamento comprende appunto le informazioni le informazioni un obbligo di informazione leale e corretta ricordo che anche il codice del consumo impone impone un determinato comportamento e evidenzio che la sanzione amministrativa ovviamente può arrivare addirittura fino a 5 milioni di euro tenuto conto appunto della gravità e della durata della della durazione sul punto cioè sulle pratiche commerciali scorrette interverrà un ulteriore provvedimento normativo in quanto è stata già pubblicata la direttiva 633 che impone agli stati membri di implementare quanto indicato nella direttiva entro il primo maggio 2021 tale direttiva prevede diciamo delle ipotesi di pratiche commerciali siliari nei rapporti tra imprese e in base al fatturato di questi di questi soggetti coinvolti nella filiera ci sono dei comportamenti e delle conseguenti sanzioni che sono assolutamente gravi però su questo ovviamente bisognerà vedere come verrà implementata verosimilmente verrà implementata così come indica la direttiva ma da qui a maggio abbiamo ancora ancora tempo per per aggiornarci codice penale è ovviamente l'ipotesi più grave l'ipotesi più grave dove effettivamente si incorrono dei rischi particolari specialmente per quanto riguarda la presentazione di un prodotto in maniera diversa da quella dichiarata pensiamo all'esempio classico del pesce sul gelato venduto come fresco o quant'altro ho qui riportato una sentenza che era interessante sulla tentata a froda in commercio nei confronti di un bar che aveva esposto sul banco di vendita dei prodotti di pasticceria senza indicare che erano stati congelati all'origine per vostra informazione insomma è sempre utile dare uno sguardo a RAFT che è appunto il sistema di allerta rapida per quanto riguarda le operazioni di ritiro richiamo sequestro o respingimento dei prodotti e con il quale a volte bisogna relazionarsi da dove fossimo noi interessati da questi provvedimenti infine consiglio sempre di investire il più possibile per effettuare un'organizzazione interna formazione avere consulenza avere un aggiornamento periodico anche direttamente con le autorità investite di questi controlli per evitare cioè per prevenire per prevenire effettivamente la combinazione di sanzioni ai nostri confronti e per fare in modo che i nostri prodotti vengano poi presentati sul mercato in maniera in maniera corretta investendo prima a volte si risparmia molto molto dopo la dove poi si debba gestire il problema io ho finito vi ringrazio per per l'attenzione chiaramente poi anche questa 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 presentazione verrà verrà condivisa dove chiaramente ci fossero delle necessità di approfondimento di ulteriori chiarimenti avete i miei contatti che sono a disposizione vi ringrazio grazie Massimo torno online io per il momento ecco magari io propongo possiamo ancora rimanere online cinque minuti nel caso in cui le imprese abbiano delle domande potete scriverle direttamente nella sezione delle domande risposte nel frattempo ti leggo Massimo già una domanda che ci è arrivata che probabilmente dovresti riuscire a vedere anche tu appunto nella sezione domande risposte ma se preferisci la posso leggere anche a favore di tutti i partecipanti allora quest'impresa ci chiede gestisco parecchie lavorazioni a marchio terzi e parecchie conto lavorazioni utilizzando materie prime conferite dai clienti stessi dopo la produzione fornisco il vaso nudo con marcatura getto di inchiostro di lotto e scadenza su capsulo o vasetto in fase di formalizzazione e contratto tra le parti mi sollevo da ogni responsabilità in materia di etichettatura e mi impegno ed obbligo a fornire in fattura la lista ingredienti il peso il lotto la scadenza i dati utili al mio cliente in fase di stesura delle proprie etichette fatta questa premessa quindi l'impresa ci chiede è una procedura corretta non essendo io il detentore del marchio col quale il prodotto finito viene immesso sul mercato io lascerei a te la risposta dato che è proprio un quesito specifico di responsabilità e appunto contratto grazie grazie ma allora diciamo io qui vedo due elementi il primo riguarda l'utilizzo del marchio diciamo di quello che poi è il soggetto che immagino vada ad utilizzare a commercializzare questo prodotto quindi c'è un titolare del marchio che dà diciamo a un utente il una possibilità di utilizzo di questo marchio quindi immagino immagino che l'utilizzo del marchio non debba rappresentare un problema laddove laddove effettivamente ci sia un accordo di utilizzabilità del marchio quindi io ricevo ricevo un incarico di realizzare questi 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 vati o che che sia nel quale si deve apporre apporre un marchio nel quale io sono stata utilizzata quindi per quanto riguarda l'utilizzo del marchio di per sé non vedo principali problemi ora quello che va analizzato è il passaggio successivo e cioè io ricevo degli ingredienti li trasformo in un certo modo li inserisco in un in un prodotto li vendo poi ad un ulteriore operatore del settore del settore alimentare senza etichettare questi prodotti perché leggo che fornisco il vaso nudo con marcatura getto rinchioso di lotto e scadenza sul capsulo basetto quindi non c'è l'etichetta ora questo qui è un'ipotesi che se andiamo a vedere l'articolo 8 paragrafo 7 memoria del regolamento 169 è chiaramente prevista dal regolamento ed indica appunto che nelle fasi di commercializzazione che antecedono la vendita la vendita ai consumatori le informazioni possono possono anche essere rese sui documenti commerciali informazioni obbligatorie possono anche essere rese sui documenti sui documenti commerciali quindi il fatto il fatto che ci sia ci siano queste informazioni che sono date su un documento commerciale come la fattura ad esempio è assolutamente in linea con quel che prevede il regolamento attenzione però che nonostante questo ci sono alcuni elementi che devono figurare sull'imballaggio esterno di questi prodotti e questi sono sicuramente la denominazione dell'alimento quindi questi vasetti immagino verranno inseriti in un cartone o qualcosa su quelli bisogna comunque indicare qualcosa e sono appunto la denominazione dell'alimento sono il termine minimo di conservazione sono le condizioni particolari di conservazione e ovviamente il nome della ragione sociale dell'operatore del settore alimentare ecco queste informazioni devono comunque risultare sul packaging esterno ecco quindi corretto quello che viene fatto ma a condizione che appunto ci sia anche questa quest'ulteriore quest'ulteriore trasmissione di informazioni che qui non vedo indicato ma che probabilmente viene comunque sicuramente ci sarà grazie mille non vedo altre domande per cui insomma direi di terminare il nostro incontro io ringrazio tutti i partecipanti insomma chi appunto si è iscritto anche alla seconda sessione non alimentare ricordo che dovrebbe già essere attiva da qualche minuto e quindi vi invito a selezionare il secondo link che vi è stato inviato grazie a tutti grazie l'avvocato Massimo Alpigiani per la partecipazione per la presentazione più che esaustiva grazie e vi saluto arrivederci arrivederci a tutti grazie